Comanda sempre il Picerno ma il Cerignola non molla, aggancia il Taranto in piazza d'onore e resta a meno 4 dalla regina del Girone H. Vittoria esterna molto importante nel campionato di Serie D per la squadra di Dino Bitetto che espugna l'ostico domicilio del Nola con due reti entrambe nella ripresa. L'Attanzio conferma il suo eccellente stato di forma rompendo l'equilibrio all'ora di gioco Marotta raddoppia nel finale. Il primo tempo è stata un po' equilibrata anche se abbiamo avuto magari più delle possibilità a noi per fare gol e cominciare magari ad andare in vantaggio. Però dopo la fine, secondo tempo abbiamo ottimizzato anche sotto forma realizzativa con le due reti e abbiamo credo meritato di vincere. Finisce in parità il Degli Olivi invece l'atteso derby tra Fidelisandria e Taranto. Succede tutto nel finale. Cristaldi trasforma a dieci minuti dal novantesimo rigore che porta in vantaggio i Biancazzurri. Poi si becca in pieno recupero un altro giallo molto contestato dai padroni di casa. L'arbitro fa ripetere un calcio di punizione che Marsili, ex di turno, trasforma per il definitivo 1-1. Il calcio è questo però noi abbiamo fatto veramente una grande gara. Siamo stati sempre in partita, sempre sul pezzo. Poi dopo dobbiamo fare il 2-0 perché abbiamo avuto una palla eclatante con Manno. Non ci è andata bene e poi alla fine tutto quel pastrocchio che è successo, una punizione fatta ribattere. Siamo stati sfortunati oggi ma questo è successo anche la settimana scorsa. Credo che sia il risultato più giusto per quello che si era visto magari nel corso di tutte i 97 minuti di gara. È chiaro che sapevamo di venire qua e di trovare una squadra tosta, una squadra preparata, abbiamo messo in campo e sapevamo che era una partita tutto sommato difficile. Quindi credo che poi alla fine dei giochi sia il risultato giusto. A lunga in vetta il Picerno che sbanca Nardò con le retti nell'ultimo quarto di partita di Cagliazza e del solito Santagnello. Lucani a più 4 su Cerignola e Taranto. In quarta posizione balza invece il Bitonto che si aggiudica l'altro derby pugliese dalla 24esima giornata. I nero-verdi di Pizzulli vincolo 2-0 al Vito Curlo contro il Fasano. Apre Anaclerio dopo una decina di minuti. Chiude un Patierno in forma strepitosa. Non abbiamo avuto un buon approccio onestamente alla gara. Abbiamo sofferto la loro pressione. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo proprio perché venivano a prenderci alti e non siamo stati bravi e lucidi a creare linee di passaggio e a trovarle. Poi il gol su palline attiva sicuramente ci ha fatto cambiare partita. Dovevamo cercare di essere un po' più tranquilli anche perché un gol possiamo anche prendere. Poi c'era tutto il tempo per recuperarla. Però abbiamo perso un po' di lucidità soprattutto nel primo tempo. Il risultato non sia in discussione anche se loro hanno avuto forse l'occasione un po' più clamorosa quella di Serri con un gran gol. Poteva fare un gran gol. Però se guardiamo la partita insomma mi sembra annoverare un po' le occasioni avute sia i rigori non dati soprattutto quello su Patierno ma anche l'occasione di Patierno parata dal portiere a 2x2. Un altro tiro di Tudito a 2x2 fuori. Ci sono tante occasioni. Noi penso abbiamo mantenuto il campo molto bene. Siamo stati molto compatti. Non abbiamo lasciato spazio. Abbiamo provato sempre a giocare nonostante il campo non stia in buone condizioni. Pareggiano in casa le due murgiane. Il team Altamura sfrutta l'autorete di Luise per passare in vantaggio. Il Pomigliano prima fallisce un rigore con Poziello. Poi ferma il pareggio con Liberti. 2x2 invece al vicino tra Gravina e Sorrento. Due volte in vantaggio gli ospiti con Bozza Otre ed Alfonso Gargiuro ma sempre raggiunti dalla squadra di Valeriano Losseto prima con il nuovo entrato Santoro. Poi con Mangiacasale. Nell'altro girone infine torna a vincere in trasferta dopo due sconfitte di file il Bari che batte 3-0 il Locri. Reti tutte nella ripressa di Di Cesare, Simeri e Floriano Biancorossi. Ora a più 11 sulla Turris. Missione. Avevi una possibilità di far vedere qual è veramente il tuo valore. Ripeto con una squadra che era in salute e dal punto di vista fisico mi sembrava attrezzata per portarti soprattutto inizialmente crearti dei problemi. Abbiamo tenuto botta come si dice e poi alla fine il risultato è ampiamente giusto.